Siamo su NeoPlanet e qui si deciderà il futuro delle probabilmente anche le carriere di questi due giocatori sono entrambi fortissimi, uno Zerg e un Terran e si vanno a frontare per andare a prendersi il round 16 della fase a gironi del WCS Europe nell'angolo in alto a destra, uno dei russi più forti al mondo uno dei russi che utilizza la razza, la sua razza, i terrestri, come se fossero una sua esponenziale potenza divina non so cosa ho detto, ma ti fate per Empire B! Nell'altro angolo invece abbiamo un giocatore che è stato per lungo tempo militante in un team italiano adesso si ritrova alleato di Naniwa come giocatore svedese, razza Zerg, Allianz, sort of Zerg contro Terran amici per questa che sarà l'ultima serie che andremo a commentare questa serie che sarà anche la serie definitiva, la serie finale, andiamo a vedere che subito sort of sembra partire abbastanza classico con una 15 aceri, mentre dall'altra parte il giocatore Terran russo sembra voler andare a partire con dei reaper, ha iniziato immediatamente andando a creare il gas quindi vedremo molto molto probabilmente dei reaper, ancora la caserma non è finita terminerà tra pochissimi istanti, sta per terminare, è quasi terminata, ecco che è terminata ed ecco che probabilmente vediamo immediatamente infatti la produzione del primo reaper da parte di Happy che sta andando a giocarsela contro sort of per vedere chi dei due passerà il turno chi vince va avanti, chi perde ritorna a casa e dovrà giocare la prossima season andrà a finire nel challenger, quindi non sarà certamente una situazione facile da quest'altra parte intanto sort of è andato a posizionare la sua spawning pool e immediatamente dopo anche un estrattore di Vespene mentre il primo reaper sta nascendo, il primo reaper è appena arrivato sul campo di battaglia allora seguiamo questo minovolante, seguiamo questo minovolante che si va a spostare sentite subito la musica che accompagna il reaper vola il reaper, vola il reaper, va subito nella main, viene visto da sort of, vediamo attenzione perché sort of ancora non ha niente, non ha neanche dei linghe, 4 linghe stanno per arrivare ma ancora non sono pronti, attenzione questo reaper sta facendo grossi danni, molti più danni del previsto c'ha già 2 kill questo reaper, ma cosa sta succedendo? 3 kill il reaper, no, 2 kill bravo questo reaper, molto bravo questo reaper di Happy attenzione, continua a muoversi il reaper, continua a gironsolare, potrebbe portarsi a casa ancora un altro drone incredibile, forse è caricato dalla musica di Superman il reaper non riesce a portarsi a casa il terzo drone ma comunque penso sia soddisfatto Happy del suo lavoro nel frattempo è riuscito a posizionare il suo secondo centro di comando non riesco a prenderlo perché ancora non è terminato attenzione, arriverà anche il terzo centro di comando da parte di Happy immediatamente, devi anche comunicarvi che questa mappa è stata scelta da sort of l'avrei mai scelta io questi sono Pippo, gli esperimenti di Pippo gli esperimenti di Pippo attenzione perché adesso i reaper sono 2 i reaper sono 2 i due reaper che vanno ad attaccare la Queen attenzione, questi due reaper non ha ancora non ha ancora la speed, non ha ancora la speed e ha i link sort of questi due reaper potrebbero continuare a dare fastidio non ci sono altri link in produzione, in verità sì, ce ne sono altri 8 i reaper vanno avanti e indietro i reaper russi fa volare, volare veloce volare veloce fa volare veloce nel tedesco grante madre grante madre russia, i reaper contro le Queen le Queen contro i reaper, i reaper adesso salpano di sopra un reaper va di sopra, uno va di sotto uno sta di sopra, uno sta di sotto uno sta di sotto ma ci sono veramente tanti linghe adesso ci sono veramente tanti linghe stanno arrivando anche delle elion a supporto di questo piccolo ma potente esercito del giocatore cerca attenzione il giocatore Terran continua ad attaccare potrebbe portarsi a casa questa Queen questa Queen potrebbe cadere sotto i colpi di... infatti è caduta, è caduta attenzione continuano a muoversi questi elion e questi reaper adesso se ne stanno a ritemporeggiare ma ci sono tre elion e due reaper continua il push continua il risorabile questo push sta facendo un'ottima partita a mio parere in questo momento il giocatore russo adesso però attenzione perché è finita la speed è finita la speed dei Linghe e i Linghe sono tanti ci sono anche due Queen attenzione buona visuale da parte di Sortoff adesso sembra voler tornare indietro Happy costringe Sortoff a creare ulteriore unità ben 10 Linghe altri 10 Linghe in produzione da parte del giocatore da parte del giocatore svedese attenzione adesso sta arrivando anche un Marauder sta arrivando anche un Marauder adesso ma c'è già la terza base sta creando da tre basi adesso si muovono i Linghe sono tanti Linghe attenzione i Linghe sono tanti ma sono tanti anche le elion potrebbe sbagliare l'ingaggio Sortoff attenzione se riesce invece a saurandare queste Elion attenzione è un momento molto molto importante guardate le elion contro i Linghe si va a splittare tutto attenzione guardate Sortoff sta facendo un ottimo sound round con i suoi Linghe adesso prova a far sare i suoi Linghe dall'altra parte ma le elion le elion sono rimaste in vita sono 34 lavoratori per il giocatore Terran 36 per Sortoff e non sono assolutamente tanti quelli di Sortoff un attacco di lag l'attacco di lag che non ti aspetti altrimenti se i Linghe in produzione da parte di Sortoff attenzione perché c'è anche un bel inneste a questo punto è chiaro ed evidente che Sortoff vuole fare una voglia a fare una sorta di timing va a posizionare anche una terza in questo momento attenzione perché da questa parte non vede niente non vede niente in questo momento il giocatore del Team Empire il giocatore del Team Empire non vede niente ma le Queen le Queen provano a difendersi attenzione perché potrebbe essere quasi una sorta di best trade perché non c'è niente a difesa non c'è niente a difesa della base non c'è niente a difesa della base da parte di Sortoff da parte di Sortoff che però adesso da quest'altra parte capisce Happy che sta arrivando qualcosa perché non c'è niente a difesa attenzione ci sono 2.000 le 2.000 devono andare a posizionarsi provano a posizionarsi le 2.000 il bunker cade cade il bunker una mina distrugge alcuni baneling attenzione però perché non c'è altro 2 baneling che distruggano attenzione di qua non si passa di qua non si passa Happy sembra si ha potuto difendere Happy sembra riuscire a difendersi infatti ha perso solamente 6 lavoratori ha perso solamente 6 lavoratori che non sono molti in questa infatti arriva il GG amici è arrivato il GG Sortoff non è riuscito a fare danni e Happy si è già portato sull'1-0 Happy 1 Sortoff